Sono in fibrillazione gli oltre 3.000 lavoratori del SEUS, il Servizio Sanitario di Urgenza del 118 Sicilia, che da due anni attendono il riconoscimento di alcuni aspetti del contratto di lavoro. I lavoratori lamentano la mancata applicazione di istituti contrattuali come il buono pasto, la pronta disponibilità e il riconoscimento dei 14 minuti del cosiddetto tempo tuta, quando devono indossare o svestire l'abbigliamento obbligatorio da lavoro. Lo ha comunicato il sindacato UGL Salute Sicilia, che in questi anni ha più volte chiesto all'azienda partecipata della regione siciliana di non ritardare ulteriormente l'attuazione di quanto previsto dal contratto collettivo. Il segretario regionale della Federazione UGL Salute Sicilia Carmelo Urzi e il responsabile regionale del coordinamento Emergenza Urgenza dell'UGL Giovanni Ferraro chiedono di conoscere i motivi per cui la società stia continuando a fare melina su questioni che riguardano la dignità contrattuale dei lavoratori e chiedono l'intervento degli assessorati regionali alla salute e all'economia per sbloccare il prima possibile la situazione. I rappresentanti sindacali hanno affermato che i lavoratori sono anche pronti ad avviare le iniziative di protesta del caso qualora non arrivino risposte.